gentili amiche cari amici ben ritrovati e benvenuti a questo primo video di primavera insieme alla primavera la ruota dell'anno ci ha riportato recentemente una delle feste più amate dalla città di parma la fiera di san giuseppe la fiera san giuseppe nella nostra lingua natia ha sempre visto un grande concorso di popolo dai grandi ai piccini io personalmente me la ricordo quando ancora c'erano i baracconi in via kennedy forse le persone un po più giovani di me non sanno che l'espressione la fiera san giuseppe non indica solo la festa vera e propria con bancarelle mercati e tutto come si è rifatto ultimamente ma è una frase idiomatica del dialetto parmigiano per indicare una gran confusione l'ultima volta che l'ho sentita usare è stato devo dire parecchi anni fa in lavanderia era successo questo che quell'anno un po per vari motivi avevamo fatto il cambio degli armadi un po così all'adioti fulmini mettendole le cose come venivano e il risultato è stato che poco tempo dopo mi sono trovata con la bella sorpresa delle farfalline che volavano per l'armadio e dei buchi nelle maglie allora ero ricorsa alla nostra fida bravissima lavandaia e le avevo detto cosa devo fare e lei mi aveva risposto dunque vuotare gli armadi disinfettare gli armadi lavare le maglie far trattare i panni gli ho detto ma no per carità che in questo momento sono presa da mille cose mia mamma non sta bene devo lavorare e se chiudessi tutto e riaprissi fra tre mesi e lei mi fece e gli ho detto perché che cosa trovo e lei la fiera san giuseppe ecco e questa è stata l'ultima occasione in cui l'ho sentito usare in questo significato ma quello che mi riporta sempre alla mente l'arrivo della festa oltre a questo buffo episodio è anche la figura di una persona che è stata particolarmente vicina alla così alla nostra libreria che frequentava assiduamente ossia il marchese maurizio corra di cervi e il marchese maurizio era una persona di grandissima cultura si occupava di tutto lui era pianista ed è stato archivista anche presso il conservatorio ha scritto la cronologia degli spettacoli del teatro regio era archeologo ed è stato uno dei fondatori del centro di studi preistorici dell'emilia occidentale e ha lasciato tanti scritti di archeologia lui era laureato in topografia e era laureato anche in giurisprudenza dire la verità ma più per volere della famiglia che per suo interesse personale pianista librettista ha scritto un libretto per ferrari trecate e letterato e anche autore di poesie e di un testo teatrale in dialetto parmigiano un bel dialetto davvero il volume è appunto la fera san giuseppe si tratta di tre quadri storici in dialetto parmigiano la pubblicazione è del 1971 nella collana della nostra libreria i quaderni parmigiani per volere di mio padre che aveva molto caro il marchese maurizio come persona e lo stimava anche molto come studioso e letterato e l'azione si svolge nei giorni che precedono i moti risorgimentali del 20 marzo 1848 quando i parmigiani scontenti si rivoltarono contro giovanni neuschel che era il vescovo ungherese della città di parma i protagonisti dell'azione così come luogo in cui si svolge sono realmente esistiti l'ambientazione è infatti l'osteria di giuseppe tamagni detto il monche il soprannome abbastanza esplicito per il fatto che appunto non aveva le mani che si trovava in borgo san moderanno all'osteria ebbe vita lunga più di 70 anni era il proprietario era il padre di giuseppe tamagni era sta il fondatore insomma era stato il padre di giuseppe tamagni e scomparve quando durante la bonifica dell'oltre torrente vennero abbattuti le case dei borghi come appunto borgo san moderanno borgo delle carra borgo dei minnelli i protagonisti sono appunto il monche in giuseppe tamagni suo fratello che era don marco tamagni canonico della cattedrale appartenente a quel gruppo di religiosi attivi che presero fattivamente parte ai moti risorgimentali e fra i protagonisti troviamo anche carlo malaspina qua indicato come facchino cosa che in realtà era ma che i frequentatori della libreria e del diretto parmigiano ricordano per la sua grandissima opera in quattro volumi il dizionario del dialetto parmigiano italiano ecco perché leggere adesso la ferra san giuseppe di corra di cervi beh insomma primo mi ricordo alla persona che ha lasciato veramente tante testimonianze di cultura in questa città apparteneva a quella generazione di di parmi di parmigiani colti amanti della storia del luogo dei loro cittadini delle bellezze della loro città una generazione che purtroppo si è persa ormai già da qualche anno secondo per il piacere di leggere un'opera interessante dedicata a un periodo di cui tutto sommato noi non parliamo spessissimo il periodo dei moti fra il 20 48 l'unità d'italia non è tra i più considerati sotto questo aspetto e il piacere inoltre di leggere un bel dialetto parmigiano in prosa perché se sono davvero tante le opere anche di spessore in poesia mancano quelle in cui invece si può godere del dialetto parmigiano così discorsivamente è pur sempre un'opera teatrale ma comunque i dialoghi e le descrizioni e quant'altro sono fatti in prosa il volume contiene una seconda opera dialettale del corra di cervi al general mossetta bozzetto storico popolare in dialetto parmigiano anche qui la scelta del marchese maurizio è particolare giuseppe bussandri il protagonista dell'episodio soprannominato poi generale fu la guida dei rivoltosi che parteciparono alle prime insorgenze locali contro l'occupazione napoleonica questo è un altro episodio di cui si parla realmente poco le insorgenze emiliane in particolare parmigiano e modenesi contro l'occupazione napoleonica sono un argomento davvero poco trattato e bisognerebbe ritornarci sopra magari ne avremo l'occasione più avanti e bussandri partecipò ai movimenti del 1805 ma fu poi catturato e fucilato nel 1806 a poco più di 40 anni vivono ancora i suoi discendenti e recentemente qualche decennio fa intendo dire alla gazzetta ospitò una lettera del discendente che in un breve quadro ricordava il suo avo protagonista dell'episodio dunque io con questo termino così la proposta della lettura di oggi per chi volesse approfondire così la storia delle osterie anche ruolo che hanno avuto nei vari moti rivoluzionari esiste il delizioso volume di emanuelli di aldo emanuelli le osterie parmigiane che ha avuto diverse edizioni e graziosissimo piacevolissimo da leggere così che ci regala un quadro di questa parma dei primi del novecento perché la prima edizione del volume del 1921 se non sbaglio la seconda del 31 e ci regala uno spaccato di questa parma di un secolo fa che sembra così vicina ma anche tanto tanto lontana e e per chi invece avesse piacere ad approfondire così la tradizione popolare della fiera di san giuseppe ne trova storia e anche belle fotografie sul bellissimo volume di don dall'olio e le tradizioni parmigiane comunque e vi lascio nel testo sotto il video tutte le indicazioni necessarie per reperire i testi vi ringrazio vi saluto e buon inizio di nuova stagione alla prossima